Un importante programma di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica denominato Sicuro Verde e Sociale, con fondi legati al PNRR, assegna alle Marche oltre 62 milioni di euro che finanzieranno 50 interventi che riguarderanno complessivamente 371 alloggi di proprietà dei comuni marchigiani e dell'ERAP Marche. La specificità di cui come Regione e come assessorato andiamo anche fieri è che il tutto ci è stato comunicato ufficialmente il 30 settembre e la scadenza dei bandi e l'assegnazione di questi fondi doveva venire entro il 2021. Quindi avevamo pochissimo tempo. Abbiamo immediatamente allertato i nostri uffici per predisporre le attività necessarie a predisporre i bandi e poi a fare le assegnazioni, ma nello stesso momento abbiamo fatto un'informativa a tutti i comuni delle Marche e ovviamente agli uffici ERAP per predisporli a presentare le documentazioni e la progettualità per poter accedere a questi fondi. Noi siamo riusciti nel giro di pochissime settimane a mettere in piedi le regole, il bando e le assegnazioni per poter fruire di questi 62 milioni di euro. Era una bella scommessa, ne andiamo molto fieri, oltretutto andremo a migliorare oltre 300 appartamenti in tutta la Regione Marche di edilizia pubblica popolare, in molti comuni, in 50 comuni della nostra Regione. Stiamo rivoluzionando l'edilizia popolare da qui a 5 anni, 5 anni, 10 anni. Questo che significa? Che avremo abitazioni migliori per i nostri cittadini. Stiamo parlando in generale dell'edilizia popolare, per essere chiari, nelle Marche dai 16 ai 17 mila appartamenti. C'è una comunità enorme, moltiplicate almeno per 3-4 persone, anche più in famiglia. Perciò stiamo modificando l'edilizia popolare grazie ai fondi, non è che siamo geni, grazie ai fondi che ci sono, però mi piace sottolineare che si parla sempre, ma questi fondi dove stanno? Stanno nelle istituzioni. Perciò la Regione Marche, devo dire qui l'assessore Aguzzi è stato veramente eccellente perché in tempi rapidissimi ci ha chiamato, qual è il miglioramento vero? L'efficientamento energetico, io la faccio breve. PNR serve anche a questo, come il super bonus, serve a migliorare e perciò significa, per essere chiari, che le bollette, le utenze da qui a un anno scenderanno nel 20-30% come previsione.